ciao ben tornato sul canale di stats for bats nel video di oggi andiamo a studiare di corsa la coppa italia perché già questa sera ci stanno le partite delle semifinali ovviamente con pasquetta di mezzo non ho potuto fare il video anticipatamente insieme a me come sempre ci stanno i ribracci metodo stats for bats e tipster robot che trovate su amazon e prima di cominciare con il video ricordati di seguirmi e di lasciare un like così mi aiuti a far crescere il canale allora andiamo a prenderci il superfoglio coppa italia troviamo per oggi juventus lazio che ci ha fatto pure perdere la maggiorata nel weekend c'era stata la maggiorata su lazio juventus almeno un gol della juventus era pagato a quota 6 partita di merda diciamolo della juventus ci ha avuto un paio d'occasioni per farlo quel gol ma in realtà ci sta a perderla perché non non ha concretizzato nulla e tra l'altro nel weekend è stato un weekend poco fortunato dal punto di vista delle maggiorate perché ce n'era anche un'altra sul gol della roma e è sbagliata pure quella quindi al conto ad oggi delle maggiorate siamo su 30 maggiorate 26 prese 4 sbagliate queste due di queste quattro proprio nel weekend di pasqua quindi è stato un buon weekend di pasqua con diverse casse diversi spunti intelligenza artificiale ci ha trovato diverse cose ma su quelle due la maggiorata non è stata positiva la juve con le sue colpe la roma purtroppo anche lì c'era il gol della roma c'è quel rigore su zaleschi che non si capisce come fai a non darlo poi vabbè il rigore lo devi sempre segnare ma poi c'è il gol che si è mangiato a guar che veramente cioè il portiere stava già per terra io non so come puoi sbagliare un gol di quel tipo quindi comunque vabbè discorso maggiorate per dire che le ultime due sono state sbagliate tutte e due quindi mi ha fatto rosicare parecchio come cosa e poi domani c'è fiorentina atalanta interessante da analizzare perché l'atalanta ha asfaltato il napoli quindi sarà da vedere cosa cosa ci riserva allora ti preannuncio anche che ci sono delle novità però farò un video a parte perché altrimenti ci allunghiamo troppo però una delle novità per esempio è questo qui che se si clicca sul competizioni ti ci riporta è un po più comodo rispetto a quando magari che ne so uno sta studiando campionati qua sotto e poi devi andare a riprendere la partita devi ogni volta stare a scorrere basta cliccare sul nome del campionato o della coppa in questo caso e ti ci porta dentro allora andiamo a vedere come stanno messe le condizioni delle quote la juventus parte favorita credo in parte anche per riscattare quello che è successo con la lazio però parte favorita ma c'è un rialzo di quota quindi la statistica allora ricordiamoci sempre che la statistica delle coppe ha un database molto corto perché arrivi alla semifinale dopo aver disputato sei partite alcune otto se cominciamo un po prima però comunque il database è molto stretto quindi la statistica si genera soprattutto con la quota con quello che è lo storico delle quote infatti se andiamo a vedere nelle coppe è solitamente molto più vicina tra flashback e statistica del campo perché lavora molto sulle quote lavorando molto sulle quote noi sappiamo che dallo storico e da questi movimenti dall'allibramento che ne ricava eccetera eccetera c'è questa statistica qui di vittoria in casa però la juventus che abbiamo visto due giorni fa contro la lazio non mi dà questa sicurezza a me nella maniera più assoluta non mi dà questa sicurezza quindi farei molta più attenzione sull'esito uno secco al novantesimo per me è molto più probabile chiuderla sulla 1x anche perché c'è il doppio scontro quindi anche la lazio se riuscisse a strappare un punto dalla dalla partita se riuscisse ad avere il ritorno a roma partendo non necessariamente sconfitta non vedremo una lazio super all'arrembaggio credo che in una partita di questo genere sarebbe molto meno probabile vedere il gol che ha fatto al novantesimo a lazio perché lì la propria vincere fino alla fine qui probabilmente che indusi prende la palla la rimanda indietro per cercare di mantenere il pallone e chiudere la partita in pareggio non so se riesco a far capire il tipo di ragionamento quindi su questo farei attenzione farei attenzione anche sul super over che è una metrica appunto che ci porta ogni tanto a valutare partite con qualche gol in più perché il super over nell'ottica delle coppe già è un esito contro statistico e nell'ottica delle coppe diventa ancora più difficile perché nelle coppe uno ragiona sui 180 minuti quindi lui ci segnala che c'è questa metrica però secondo me non è la partita giusta dove spingerla troppo una metrica del genere non amo giocare gli under nella maniera più assoluta penso che non mi avreste non mi avete mai visto suggerire un under in questi anni eppure per me l'esito più probabile da associare a una partita del genere in realtà sarebbe proprio l'under o al massimo il multigol 1 3 quindi una possibilità di combo 1x multigol 1 3 o addirittura stavo vedendo la statistica che è super alta un 1x under 3 e mezzo questa per me è la reale è il reale ragionamento che farei su un match di questo genere poi si può provare a rischiare l'under a 1 e 53 però non è la tipologia di giocate che preferisco fare quindi sinceramente per me questa la prima semifinale si chiude sulla 1x under 3 e mezzo ci abbiamo poi il match di domani fiorentina atalanta anche in questo caso al franchi si disputa una partita che apparentemente dovrebbe regalare non troppi gol perché il multigol 1 4 è quella valutazione che fa l'intelligenza artificiale quando non c'ha dati di riferimento e dati di riferimento lo vediamo che non ci sono perché l'under e l'over sono paritari l'over 1 e mezzo l'under 3 e mezzo sono praticamente paritari quindi non riesce ad individuare un trend più potente dell'altro per andare a posizionarsi quindi ti dice guarda cioè ce ne sta tra 1 e 4 non ci sta il numero che riesce a fartelo capire però c'è invece un atalanta in forma smagliante e anche la fiorentina visto col milan non è stata una brutta fiorentina cioè la fiorentina non strappa punti contro il milan perché magnan fa delle parate incredibili però ci poteva stare che la fiorentina facesse due gol quindi qui mi aspetto più facilmente gol rispetto che a torino sicuramente c'è la stessa identica valutazione da fare sul ragionamento dei 180 minuti quindi sul fatto che non vedremo le squadre all'arrembaggio totale però hanno sicuramente due atteggiamenti più offensivi rispetto alle altre due quindi un paio di gol qua me li immaginerei onestamente un paio di gol a firenze ci possono stare anche perché la metrica della forbice non è come la metrica del super over una metrica contro statistica quindi la metrica della forbice a seconda i gol e ci si può ritrovare anche nelle coppe ma soprattutto vediamo che questa è proprio una forbice perfetta cioè 262 262 cioè stanno totalmente nello stesso arco di forbice e anche i risultati esatti due su tre ci portano a ai gol quindi ad almeno due gol quindi per me uno dei risultati esatti più probabili è proprio questo è proprio l'uno a uno forse se dovessi andare a favorire l'atalanta e comunque visto quello che ha fatto al napoli mi dà l'idea di avere un periodo di forma più alto di quello che ci dicono questi numeri 37 32 mi sembra che l'atalanta addirittura il flashback addirittura favorisce la fiorentina invece per me per quello che ho visto l'altro giorno contro il napoli l'atalanta c'ha qualche skills in più qualche punto percentuale in più ci potrebbe stare il 2 a 0 forse ci metterei il 2 a 1 dentro cioè 1 a 1 2 a 1 non so 2 a 0 mi sembra eccessivamente punitivo per la fiorentina l'1 a 0 visto l'ottimo stato dell'atalanta mi dà l'idea che sia più difficile verificarsi quindi anche in questo caso non c'è ovviamente un esito preponderante l'uno sull'altro però sposterai sulla x2 ma soprattutto sposterai sui gol o un paio di gol over 1 e mezzo che avremo intorno a quota 1 e 20 quindi un esito più semplice x2 over 1 e mezzo oppure a quota 1 e 66 secondo me non è sbagliata prendersi una giocata su questo esito gol quota 1 e 66 normalmente sarebbe una quota da singola perché la singola noi la giochiamo tra 1 e 50 e 1 e 70 quindi a 1 e 66 sarebbe anche una buona singola però è una semifinale di coppa però vale sui 180 minuti quindi non c'è il ragionamento sul match secco quindi se lo utilizzate come esito gol lo utilizzerei non in singola o quantomeno non a budget totale della singola che significa che se il mio budget totale per la singola è 100 euro magari decido di decurtarlo di 50 euro la gioco al 50 perché comunque devo tenere presente la problematica che è nei 180 minuti e non nei 90 minuti questa è per me l'analisi delle due semifinali ovviamente ci saranno poi le partite di ritorno quindi potrebbero pure finire tutte e due 0 a 0 il ragionamento è che la juve credo che in casa voglia sfruttare il fattore casalingo per cercare di vincerla a tutti i costi ed è per questo che la spingo sulla 1x la fiorentina sa che se va a bergamo già sconfitta probabilmente sta fuori quindi il fattore casalingo almeno un gol della fiorentina me lo fa immaginare e vista la capacità di gioco dell'atalanta il gol dell'atalanta me lo immagino per questo motivo per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video in cui poi torneremo ad analizzare la serie A perché qui con le partite infrasettimanali è tutto un corri corri uno appresso all'altro per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video